buongiorno ok abbiamo risolto il problema non non siamo in grado di fare uno start up senza problemi è anche una cosa simpatica benvenuti al word camp milano 2019 facciamo una cosa veloce ma vi racconto soltanto una cosa probabilmente il mio simpatico accento avete già capito che sono tedesco e oggi volevo e meno dire una parola su wordpress e la sua importanza io 30 anni fa quando è caduto il muro non mi facevo ancora tanti pensieri come che si va un giorno che parlo di open software o scrivo qualcosa che mi passa per la mente liberamente senza che qualcuno mi può censurare ok oggi 30 anni dopo capisco tutta la importanza dell'open source e dei anni passati e wordpress è senz'altro una cosa una parte importantissima in tutto questo oggi abbiamo risolviamo problemi enormi ma abbiamo tutti una voce se sono questioni di genere di politica di religione o qualsiasi cosa wordpress ci dà ci dà una voce a dire qualcosa importante o no è quello credo che il muro anche se per fortuna non c'è più oggi però esiste spesso nella testa della gente e questo magari un simbolo abbastanza importante qui questo e questo mi porta subito sul codice di condotta che avete accettato e praticamente anche la community di wordpress riflette tutto questo che ci compattiamo bene uno con l'altro non ci sono problemi di razza religione politica eccetera qui ci possiamo incontrare e parlare liberamente senza che qualcuno ci magari non ci permette di parlare e questo codice di condotta è comunque una cosa abbastanza importante in questa community e ci teniamo tanto e se vi sentite un po' non a vostro agio fateci sapere che è molto importante vedete queste persone qua i volontari che hanno questa maglietta gialla se avete un problema o una domanda parlate con noi non c'è nessun problema ok siamo qui la terza volta in Bicocca la quarta volta in Bicocca scusate è una fantastica venue sono generosissimi e ci fa sempre piacere di venire qua e l'organizzazione è fantastica e addirittura l'aula sono nuova e tutta la tecnica è fantastica e tutto questo che un evento come quello senza sponsor non si può fare abbiamo Jetpack e WooCommerce come Platinum Sponsors Siteground, T-Inspiration Teams, Ergonet, Servaplan come Gold ma anche GoDaddy, Biglot, HubSpot e Bluehost come Gold Sponsors vari bronze Sponsors che ci hanno permesso di creare un evento di questo tipo un evento di questo tipo che non sono solo talk sono soprattutto networking si fa networking io e una grande parte dei miei amici incontro ai WordCamp ci vediamo magari 4 o 5 volte all'anno questo anno c'è una regola per networking Stand like Pac-Man lasciate sempre un posto per una persona che vuole magari superentrare nella vostra conversazione ok abbiamo 3 sale questo è il track 1 qui fuori in questa direzione c'è il track 2 c'è il workshop o i 4 workshop e troverete sul sito tutta la scheda ma fuori ci sono anche una serie di e praticamente tutto il giorno durante o no dopo ogni speech avete la possibilità di bere caffè o di mangiare qualcosina la pausa pranzo alle 13-15 sì ok perfetto e mangiamo qua insieme dopo verso il 18-15 facciamo i closing remarks e facciamo la foto insieme e dopo abbiamo come sempre la nostra after party e diremo ancora questa volta potrete potrete portare la batch perché ho il batch per fare party con noi perché no batch no party noti di servizio sì domande qualsiasi domanda noi siamo volontari vi rispondiamo a qualsiasi domanda esigenza che avete ok e adesso cominciamo buon divertimento grazie 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 grazie